Ben ritrovati, si rinnova l'appuntamento con l'informazione di TRMH24 News. Torniamo a parlare delle aggressioni ai sanitari dell'ospedale Riuniti di Foggia, questa volta a parlare della sorella della 23enne deceduta dopo l'intervento chirurgico. La donna in un lungo post sui social non nega l'aggressione, ricostruisce la vicenda. Sentiamo. Sono morta anch'io con lei, non accetterò mai tutto ciò e non lo perdonerò mai. È un passaggio del lungo post di accuse ai medici del Policlinico Riuniti di Foggia, pubblicato dalla sorella della giovane di 23 anni, morta lo scorso 4 settembre, mentre era sottoposta a un intervento chirurgico in seguito a un incidente stradale, verificatosi a giugno. Dopo la morte della giovane si è scatenato il caos in ospedale con i parenti della ragazza che avrebbero aggredito medici e infermieri del reparto di chirurgia toracica. La sorella della 23enne di Cerignola si sfoga sui social fornendo la sua versione della vicenda, non negando l'aggressione ma parlando di falsità che sono state dette e scritte e dicendosi convinta che sua sorella sia morta per responsabilità dei medici. La giovane era ricoverata dal 19 giugno scorso dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto mentre si trovava su un monopattino. Dal racconto della sorella emerge che la 23enne, subito dopo l'incidente, fu trasferita a Foggia in elisoccorso. Prima in rianimazione subì un intervento per tre vertebre scomposte, la tracheotomia l'aiutò a respirare con le macchine. 16 giorni rimase in rianimazione in coma. Poi il risveglio, il trasferimento in neurochirurgia e l'inizio della riabilitazione il 16 luglio. Secondo quanto riferisce la sorella, la giovane si era ormai ripresa ma doveva essere sottoposta a un secondo intervento alla trachea, conseguenza della tracheotomia. Ai familiari venne comunicato che l'intervento doveva essere seguito a Roma perché, come si legge nel post, nell'ospedale di Foggia, come comunicato, non sono competenti nel settore. Il 4 settembre, sempre secondo la ricostruzione, la ragazza con un messaggio avvisò ai familiari di dover essere sottoposta a una visita. Da quel momento la situazione precipitò fino al decesso. Sarà ora l'autopsia ad accertare le cause del decesso, insieme con una indagine interna della Direzione Generale, che dovrà verificare tutto il percorso assistenziale. La Procura di Foggia ha aperto due inchieste, una sul decesso della giovane e l'altra sull'aggressione ai sanitari. Digiton 2024, serata finale in Piazza Castello a Biceglie con il ministro Raffaele Fitto e l'europarlamentare Antonio De Caro. L'Europa al centro del dibattito. Sentiamo. Pugliesi doc, cioè sono simboli di questa regione, quanti come il pane di Altamura, l'olio, il primitivo di Manduria. Sono stati tra i protagonisti dell'ultima serata del Digiton 2024 la maratona digitale organizzata a Biceglie dal 5 al 7 settembre. Raffaele Fitto, ministro degli affari europei, il Sud, le politiche di coesione, il PNRR e l'europarlamentare presidente della Commissione Ambienti Antonio De Caro. Presentati dalla giornalista Mirta Merlino hanno affrontato diverse tematiche, le dimissioni di San Giuliano, il PNRR, ma soprattutto la prospettiva europea e il ruolo dell'Italia in Europa. Il ministro Fitto ha evidenziato gli obiettivi e i risultati raggiunti dall'Italia. L'Italia è il paese che appunto dà il contributo più rilevante dal punto di vista numerico, sia degli esborsi, circa il 50% dei pagamenti complessivi in Europa dei piani nazionali di ripresa e residenza sono dell'Italia, e in secondo luogo, un aspetto molto importante, gli obiettivi raggiunti. Antonio De Caro ha commentato il possibile ruolo del ministro Fitto come commissario europeo. Io credo che il Fitto in Parlamento europeo come commissario sia un fatto positivo per il nostro paese, lo dico anche da rappresentante di una forza di opposizione a questo governo in questo paese. Perché, come ha ricordato lui, su molti temi, soprattutto sul PNRR, abbiamo avuto posizioni diverse, ci siamo confrontati, abbiamo anche litigato qualche volta, però poi per l'interesse del nostro paese abbiamo trovato sempre una soluzione. E ancora transizione ecologica e crisi energetiche tra i temi trattati. Siamo in un contesto molto difficile, siamo nel pieno di alcuni conflitti drammatici, l'Europa deve avere un ruolo rilevante in questo contesto. Gli scenari cambiano molto rapidamente, nessuno poteva immaginare che in pochi mesi ci sarebbe stata una gravissima crisi energetica, per esempio. Andiamo alla cronaca. Mal tempo in arrivo sulla Puglia per tutta la giornata di domani. La protezione civile regionale ha emesso un'allerta gialla per il rischio idrogeologico per temporali. L'allerta è a partire dalla mezzanotte per le successive 24 ore. Sono previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. Ancora con la cronaca accolto da un malore, mentre era alla guida è riuscito ad accostare l'auto e a chiamare la moglie, ma è morto poco dopo. È accaduto sulla strada provinciale 65 che collega Ugento a Torre San Giovanni. La vittima, 76 anni, originario di Casarano, l'uomo stava rientrando da una battuta di pesca quando non si è sentito bene. Ha quindi accostato l'auto in una piazzola di sosta per poi allertare la moglie e i familiari. Vanno il ricorso dei sanitari. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Casarano, dove il figlio dell'uomo presta servizio. Sulla costa Ionica Lucana l'evento di fine stagione del Lido inclusivo Il Sogno del Capitano, organizzato dal Consorzio La Città Essenziale. Una grande festa di fine estate che ha animato il lungomare di Metaponto in provincia di Matera. La Culla della Magna Grecia ha ospitato il Festival delle Arti di Strada, cura di Pachamama, organizzato dal Consorzio La Città Essenziale, in occasione della chiusura della stagione estiva del Lido inclusivo Il Sogno del Capitano. Così la città di Berralda si riconferma come prima destinazione open della Basilicata, grazie anche al successo del primo Lido accessibile e sostenibile. Musicisti, cartomanti, clown, mangiafuoco e acrobati hanno intrattenuto il pubblico con sette spettacoli, in grado di creare il perfetto equilibrio tra le diverse arti di strada. L'evento è stato organizzato con l'intento di celebrare i valori che la città essenziale porta avanti da anni, con l'obiettivo di dare vita a una Basilicata migliore. Il Lido Il Sogno del Capitano è infatti solo una parte del grande progetto Open City che rappresenta l'impegno costante verso un turismo inclusivo e accessibile. E allora andiamo adesso a guardare un servizio riguardante un concerto, un concerto dell'Orchestra Sinfonica di Matera. Possiamo guardare il servizio. L'Orchestra Sinfonica di Matera diretta da Pietro Omianiti e con il violinista Pari de Lo Sacco è inaugurato sabato nell'Auditorium Gervasio la terza stagione concertistica 2024. In scena il concerto Mendelssohn l'Italiano, interamente dedicato al compositore. Abbiamo lavorato molto bene con l'orchestra, ho trovato una grande disponibilità, una grande elasticità e questo mi rende molto felice. Mi rende felice soprattutto perché questo progetto si svolge al sud. Io dico sempre che la rivoluzione culturale italiana deve partire dal sud. Quindi forza e coraggio a questa orchestra importantissima. E' un'emozione fortissima essere invitato qui con l'Orchestra Sinfonica di Matera a suonare il concerto opera 64 di Mendelssohn in mi minore. E' la mia prima volta in concerto a suonare quest'opera magnifica di questo compositore. Sono entusiasta di esibirmi con un'orchestra fatta per lo più di giovani che costituiscono un futuro fantastico per questa regione. Quello di questa sera è stato il concerto di presentazione della stagione sinfonica 2024 dell'Orchestra Sinfonica di Matera. Siamo alla terza stagione, noi siamo particolarmente fieri e contenti di poter dare al nostro territorio un'orchestra di livello, di qualità. Dopo i lunghi momenti di avvicinamento e l'attesa solenne con la novena a Molfetta sono entrati nel vivo i festeggiamenti per la Madonna dei Martiri che dalla Basilica è partita in processione per essere restituita al mare, quello stesso mare che ne aveva decretato il patronato sulla città. Un momento solenne e fortemente sentito da tutta la collettività come ci racconta Fran Nicola Violante, rettore della Basilica di Molfetta. Ascoltiamo. C'è stato un tempo, possiamo definirlo, di attesa come quello della novena che ci ha permesso di rendere partecipi tutti i fedeli che hanno preso parte ai vari momenti con le giornate tematiche e non solo, anche attraverso alcuni momenti che ci hanno visto al di là di queste mura come la peregrinazio dell'icona presso la Capitaneria di Porto, la Polizia Locale, il Trofeo Regina dei Martiri, il corteo storico, ecco tanti eventi che hanno permesso a molti, a piccoli e grandi, di prepararsi bene e con gioia questa giornata. Una giornata che ci vede davvero impegnati in prima linea come frati nell'animazione dei vari momenti celebrativi e poi il momento centrale, quello dell'uscita della Madonna, tanto atteso dai molfettesi e non solo, anche coloro che sono lontani. Qual è l'importanza proprio di questo momento? Quello in cui le porte si aprono e la Madonna, se vogliamo, avvicina i suoi fedeli? Sì, è un momento di consegna. Mi piace sottolineare questo aspetto perché è come se la Madonna fosse consegnata non soltanto ai marinai ma a tutti i fedeli, a tutta la gente che sarà sulla piazza, che si trova sulla piazza, a tutti quei fedeli che incontrerà lungo il tragitto. È bello vedere le lacrime di tanti, i sorrisi, gli abbracci, tutto fa parte di questo tempo bello. Grazie davvero a Maria noi possiamo sperimentare la gioia di questo incontro bello, cordiale e festoso. Tutto, grazie per essere stati con noi, linea alla regia.